Ciao a tutti, benvenuti di nuovo al nostro canale. Oggi vi mostreremo come invertire un video su CapCut. Iniziamo. Apri l'app CapCut sul tuo dispositivo. Quindi seleziona il progetto con il video che desideri invertire. Ora tocca l'icona degli strumenti di modifica per accedere alle opzioni in modifica. Cerca la funzione di inversione, solitamente rappresentata da due frecce che puntano in direzioni opposte. Toccala per applicare l'effetto di inversione al tuo video. Anteprima il video invertito per assicurarti che soddisfi le tue aspettative. Se sei soddisfatto del risultato, procedi con il salvataggio del video invertito sul tuo dispositivo toccando il pulsante Salva o Esporta. Congratulazioni, hai invertito con successo un video in CapCut. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e iscriverti al nostro canale per ulteriori tutorial. Grazie per aver guardato.